Ma perché? Dico io, perché dico io continuare a guardarmi sta roba? E tutte le cose che succedono? E guardare sta roba? Alla vengo, una manifestazione condotta dalla scoppiettante Michi Minai che si è tenuta alla S.S.E. Idro di Glasgow non ha visto la presenza della hot band inglese. Comunque ha portato a casa tre prestigiosi premi. Big Spar, Big Spop e Buzz Lightyear per il loro Where Are You Too. Ottimo anche il cazzo di Ariana Grande. Ma ricordate Ariana Grande? Ho fatto un video vicino ai secchioni. Tutti i belli colorati. Che spettacolo ragazzi. Mettete un piace nel video.